Il volley big match a un pallapanini tutto esaurito, Modena per riaprire la serie delle semifinali Scudetto Perugia per andare ancora una volta in finale diretta di gara 4 domani su RaiSport Plus HD alle 16. Maurizio Colantoni. Il tempio del volley si prepara ad accogliere la sfida. La Modena di Velasco è concentrata e convinta di poter riaprire le semifinali Scudetto con Perugia che dopo le emozioni di gara 3 è avanti nella serie. Tanti campioni contro, in un equilibrio che proseguirà anche al pallapanini. Modena sa che in casa può esprimersi al meglio, vuole ribadire la bella vittoria di gara 2 e mettere in mostra il bel gioco ritrovato. Potrà contare, spinta dal calore dei tifosi giallo-blu, soprattutto sulle giocate megagalattiche del capitano Ivan Zaitsev, trascinatore e uomo che può fare la differenza. Perugia Sati rischiare a casa di Modena e proverà a evitare la quinta e decisiva sfida anche se, come vincente della regola Arsino, la giocherebbe sul proprio terreno. Tante le armi per Bernardi, da De Cecco in regia alla star cubana dal servizio folgorante Leon fino ad Alec Tanasevic, migliore dell'ultimo confronto a Perugia, risolutore finale di quella battaglia. Lo spettacolo della Superliga va avanti tra le passioni di due grandi tifoserie nel campionato più bello e appassionante del mondo.